Noi facciamo moltissima ricerca sia sui progetti che anche sui materiali che vanno poi di pari passo. Noi cerchiamo di collaborare con designer che riescono a rispiecchiare un po' quella che è la nostra filosofia di ricerca. Ricercando un prodotto abbiamo conosciuto l'azienda Felice Rossi che è un'azienda nota nel mondo del design ormai da quasi cent'anni perché è un'azienda degli anni venti. Un'azienda che vende in tutto il mondo quindi questa cosa ci rende particolarmente fieri e orgogliosi in più da designer italiani. Il fatto di essere un'azienda italiana è di grosso aiuto perché il design italiano è riconosciuto proprio a livello internazionale. Già da qualche anno ci stiamo muovendo nel mercato contract e quest'anno in maniera veramente molto preponderante con il modello Janus disegnato dal gruppo Wow. Janus è la parola latina che significa giano, giano bifronte quindi un divano che possa essere utilizzato in maniera molto semplice nei due lati cioè con uno schienale che si può permontare in un verso o nell'altro. In più Janus è nato per la volontà dell'azienda Felice Rossi di riuscire a creare un oggetto che avesse delle caratteristiche particolari che sono un ingombro abbastanza limitato quindi uno spazio che stesse nel 75x75 il posto singolo ma che potesse essere moltiplicata e potesse diventare quasi infinita da poter riempire uno spazio molto ampio. Questo è un salone veramente molto molto importante, noi abbiamo sempre partecipato a diverse fiere internazionali, Germania piuttosto che in Spagna, in Francia, in Inghilterra però il salone del mobile di riferimento è qui a Milano. Grazie a tutti.